Dopo circa 20 anni il Canicatti arriva finalmente all'eccellenza. Buongiorno a tutti gli spettatori. Sì, siamo riusciti in questa impresa che mancava da un ventennio nella nostra città. Abbiamo raggiunto quello che è l'eccellenza del calcio dilettantistico, appunto si chiama eccellenza, che è il massimo campionato regionale, una categoria che in questa piazza affamata di calcio mancava ormai da diversi anni. E' un sogno che molti tifosi rincorrevano da tanti anni e finalmente dopo un campionato combattuto, dove Raffadali è stato anche spesso avanti a noi, siamo riusciti a portarlo a casa. Quindi siamo soddisfatti e questa società sportiva ha raggiunto appieno il titolo di vittoria sul campo, senza passare dai ripescaggi come qualcuno paventava all'inizio del campionato. E adesso quali saranno i vostri progetti futuri e soprattutto lo stato dello stadio? Stamattina la prima cosa che ho fatto, a parte vedere qualche dirigente, ovviamente a parte i festeggiamenti di ieri, essere soddisfatti del raggiungimento dell'obiettivo, sono andato a trovare in maniera informale il sindaco, con il quale la prima cosa che gli abbiamo chiesto, abbiamo necessità di capire cosa farà l'amministrazione comunale e che cosa succederà al Carlotta Bordonaro perché noi dobbiamo programmare la prossima stagione sportiva, non solo di quest'anno ma anche dei prossimi anni. Sicuramente un accento importante sarà dato ai giovani perché pensare di fare calcio a questi livelli in eccellenza e magari aspirare a qualche altra cosa in più senza una struttura sportiva degna, ovviamente è pleonastico, non sarebbe possibile. Quindi c'è proprio la necessità, ripartendo dal basso, dai giovani, dai tanti giovani dell'Interland, perché ricordo pure che abbiamo vinto il campionato dei Juniors e quindi i Juniors regionali è un palcoscenico importante, adesso abbiamo bisogno del sottofondo, quindi della base su cui far crescere questa sportività, è questo sport, è questo calcio nella nostra città. Quindi la prima cosa che ho fatto da Presidente con la squadra è rintrasciare il Sindaco e aprire questo tavolo in maniera definitiva e vincolante affinché l'amministrazione comunale ci dia delle date e ci sia un impegno specifico per continuare questa attività sportiva, perché per noi è fondamentale. Non si può sempre sperare di fare attività sportiva avendo 11 giocatori che vengono da fuori, seppur con la maglia sicuramente attaccata al petto, ma abbiamo necessità di far venire fuori giocatori come nel passato, sono stati tanti giocatori del Canicatti nel passato, hanno militato in categorie anche professionistiche. Quindi l'obiettivo principale e primario della società che rappresento è assolutamente questo.